Il più fresco, Gustavo dentro per Guazzo, cerca l'1-2, ancora Guazzo in area di rigore, Guazzo, 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 niente da fare, ancora chiuso, Perpetuini, prova Perpetuini, sbaglia! La palla resta al campo, Tommaso, la raggiunge Montervino! Chi aveva capito che... bravo Montervino, ancora lui, ancora pallone in mezzo... Ben vicino, amici sportivi, in grande rovesciata, ma tutto il merito va a Montervino, bisogna dirlo a Rechi, che impazzisce di gioia, meritatamente, lo stavamo dicendo, la serenità... Guarda, guarda che giocata Montervino, guarda, palla dentro e che rovesciata di Mendicino, a Catanzaro di testa, qui rovesciata sul secondo palco... Eccolo qua!